Sono felice di presentare questo evento commemorazioni dei fratelli Calvino, a cui è intestato l'Ecoistituto. Nella peculiarità della scrittura di Italo bisogna essere leggeri, quindi cercherò di essere oltre che leggero anche brevissimo. So subito la parola a quello che dovrebbe essere la memoria storica dell'Ecoistituto a Gianfranco Porcile, che giustamente ci parlerà di come è nata l'idea di dare il nome a Italo e Floriano Calvino. So che è stato il professor Quaini, però tu racconterai il video. Allora grazie Giorgio, prima di leggere il mio intervento vi ricordo, visto che parliamo anche di uno scrittore, che qui allo Zenzero c'è una biblioteca dello Zenzero, ma c'è anche una biblioteca dell'Ecoistituto che è intitolata Marina Bellinazzo e che comprende più di cento volumi che sono uno più bello dell'altro e la maggior parte sono dei saggi, quindi adesso sono assolutamente interessanti ed attuali, però se lasciamo passare qualche anno magari potrebbero diventare obsoleti e quindi di interesse soltanto storico, mentre adesso veramente avrebbero un interesse veramente attuale. Quindi l'invito è a ricordarci che esiste questa nostra biblioteca e a usare di più questi volumi, questi libri, che aspettano soltanto di essere letti. Io ho scritto qualcosa e vado a leggerlo in maniera che credo non perderò troppo tempo perché il mio intervento non è molto breve. Allora, l'Ecoistituto di Reggio Emilia e Genova, fin dalla sua nascita, che risale al 2015, ha voluto intitolarsi i due fratelli Calvino, anche per le loro origini Liguri. La proposta partì dal professor Massimo Quaini, scomparso pochi anni fa, che fu il primo coordinatore del nostro comitato scientifico. Era un cattedratico di geografia, ma la sua era una geografia a tutto tondo, che includeva note di storia, etica, filosofia e politica. Pensate che ha scritto un libro chiamato Marxismo e geografia. Uno dei suoi messaggi fu che Genova e la Liguria dovevano correggere il tiro e smedere di guardare sempre e soltanto al mare, ma invece rivalutare e riconsiderare quello che oggi chiamiamo entroterra, con le sue bellezze naturalistiche e la sua importanza, specialmente in passato, per le comunicazioni e i traffici commerciali. Lui diceva che dovremmo avere il cannocchiale rovesciato, cioè un cannocchiale che dal mare guarda in direzione della terra, del territorio, con i suoi sentieri, le creose, le mulattiere, eccetera. E questo lo spiega bene nel libro Geografia in gioco del 2012. E sappiamo che anche Italo Calvino, che visse a lungo Sanremo, non era tanto interessato al mare e alle spiagge della riviera, quanto alle colline, alle valli e ai boschi che da Sanremo vanno su, verso le Alpi Marittime. Italo Calvino è certamente conosciuto, ma anche suo fratello Floriano merita di essere ricordato. Floriano Calvino, nacque a Sanremo nel 1927 ed è morto a Genova il 19 gennaio 1988, era un geologo. Meriterebbe di essere più conosciuto perché, al di là della sua professionalità e serietà, fu un chiaro esempio di coraggio e di dirittura morale. Il professor Floriano Calvino fu, infatti, l'unico del mondo accademico italiano che accettò di far parte del secondo collegio peritale, nominato dal giudice e istruttore Mario Fabri il 23 giugno 1966, per quella che, giustamente, fu chiamata la strage del Vaillant. Ricordiamo che 1910 persone persero la vita. La responsabilità era della proprietaria, la SADE, Società Adriatica di Elettricità, che a quei tempi era una potenza intoccabile. La SADE è uno Stato nello Stato, ottiene i permessi, ottiene gli espropri, pilota i collaudi, ha in mano il Ministero dei Lavori Pubblici. Denunciava così, inascoltata, la giornalista dell'unità Tina Merlin a quei tempi. Nessuno aveva il coraggio di mettersi contro la SADE. Le stesse indagini, condotte in precedenza da un altro gruppo di accademici sulle cause di manifestazione caduta della frana del Vaillant, erano risultate poco attendibili ed erano state alla base di una precedente sentenza assolutoria. Calvino, invece, fu, come abbiamo detto, l'unico esperto italiano presente nel secondo collegio dei periti per la sciagura del Vaillant, che per la mancanza di altri italiani dovette essere completato con due periti stranieri. Come si può ben capire, il mondo accademico non l'ha prese bene e forse non fu un caso se in seguito perse la sua cattedra a Padova e si dovette trasferire all'Università di Genova. Calvino ha successivamente prestato la sua opera di esperto in favore dei parenti delle vittime di sciagure come quella di Malga Villalta, 1972, sette alpini morti travolti da una valanga, e più recentemente di Stava, 1985, 268 persone morte per un'inondazione di fango. Fu, da una parte, impegnato in attività a sostegno dei popoli del Terzo Mondo, con militanza attiva nel Tribunale Bertrand Russell e nella Lega Internazionale per i Diritti dei Popoli. Dall'altra, ha prestato la sua opera per la realizzazione di importanti progetti quali la diga Bacolori in Nigeria e la bonifica del Tanabeles in Etiopia. E, infine, ha svolto attività didattica presso l'Università di Mogadiscio in Somalia. In sintesi, Floriano Calvino ha legato il suo nome ad una puntuale e sistematica opera di denuncia dei responsabili dei disastri ambientali e di tutela delle vittime delle calamità cosiddette naturali. Le sue parole d'ordine furono coraggio, etica, professionalità e responsabilità. Per questo abbiamo deciso di dedicare a lui il nome della nostra associazione. Italo Calvino nacque a Cuba nel 1923 e quindi sono giusto cento anni ed è morto a Siena nel 1985, ma visse per lo più a Sanremo ed è stato uno scrittore di chiara fama. Il suo primo libro è estremamente realista e racconta in forma romanzata della sua personale esperienza nella resistenza in Liguria. È il sentiero dei nidi di ragno del 1947, ma a differenza di Beppe Fenoglio, scrittore alvese che scrisse di resistenza con toni sempre crudi e oltremodo diretti, Calvino si inventa un protagonista bambino di nome Pin e questo gli permette di osservare e raccontare i fatti da un'angolatura particolare, quasi un pensiero laterale. D'altra parte, in tutta la sua opera successiva, che è quella per cui è conosciuto nel mondo, ci ha invece regalato una letteratura fantasiosa e simbolica, talvolta onirica, mai delirante né distopica, dove il racconto offre sempre suggestioni e interpretazioni che vanno oltre le parole. È maggiormente famoso in particolare per quella che ha chiamato la Trilogia degli Antenati. Il primo libro, Il Visconde di Mezzato, 1952, racconta la storia della compresenza nell'animo umano del bene e del male, come Robert Louis Stevenson aveva descritto nello strano caso del dottor Jekyll e Mr. Hyde e come Sigmund Freud aveva confermato nella sua teoria psicanalitica. E forse potremmo anche qui richiamare la banalità del male di Anna Arendt del 67, quindi ovviamente successivo al Visconde di Mezzato. Calvino, in un commento successivo al libro, dirà che non gli interessava la dicotomia bene e male, ma riconosce al lettore la libertà di scegliere la sua propria interpretazione del racconto. Il Visconde di Mezzato è un Antenato che ci parla dell'uomo di oggi, lacerato dalle contraddizioni e sempre in preda ad un senso di auto-insufficienza. Per Calvino, l'uomo contemporaneo è incompleto, alienato, represso, dove uno stato di antica armonia è andato perduto. Sono parole sue di Calvino. Si richiama anche a Candido di Voltaire, dove il manicheo Martino dice che l'universo è diviso in bene e in male. Ma la sua opera più apprezzata è certamente Il Barone Rampante, 1957. La figura del protagonista Cosimo, che decide di andare a vivere sugli alberi, ci offre una visione del mondo assolutamente diversa, eppure possibile, da quella, tra virgolette, normale. Un uomo perfettamente inserito nella natura, nel verde, che dimostra di avere un'ottica, o meglio una visione, ed una esistenza reale parallela e niente affatto inferiore a quella degli umani che vivono a terra. Franco Battiato avrebbe detto che la natura è il centro di gravità permanente. Più tardi di Calvino, filosofi come Gregory Bateson, che ha scritto tra l'altro L'Ecologia della Mente, e Hans Jonas, nel suo lavoro Principio e Responsabilità, sapranno illustrarci una visione filosofica che auspica con forza una nuova etica ed un nuovo e più forte rapporto dell'uomo con la natura e nella natura. Una diversa logica, un'altra logica, una logica metaforica. Calvino rovescia la prospettiva con la visione dall'alto. Cosimo, il protagonista, dall'età di dodici anni, un altro bambino, a quella della vecchiaia, sperimenta ogni possibilità del vivere. L'amore, la guerra, l'amicizia, la caccia, la politica, la conoscenza e così via. E questo, pur vivendo sempre su un albero all'interno di un bosco. Non è un avventino. Si può vivere pienamente rimanendo dentro la natura e in sintonia con essa. Può sembrare o essere il fallimento di ogni cosa, ma tutto questo accade sempre nella libertà, direi con la L maiuscola, che è il messaggio principale di tutta la trilogia degli antenati. La sua stessa morte, in realtà, è un volo leggero, legato ad una mongolfiera, quasi un gioco da bambini. Il Cavaliere inesistente, del 1959, è il terzo e ultimo libro della trilogia. Qui, Suor Teodora, è la maschera che Calvino indossa per raccontare il suo rapporto con la scrittura e la parola. E Agilulfo, il protagonista, nella sua infinita meraviglia simboleggia il dolore e la solitudine dell'uomo moderno. Agilulfo è l'inesistenza, l'assenza di fisicità, ma una inesistenza munita di volontà e coscienza che forse sono ancora più importanti. L'essenziale è invisibile agli occhi, dice la volpe al piccolo principe di Antoine de Saint-Exupéry. Non si vede bene che con il cuore. Dobbiamo andare oltre i cinque sensi. Ma molte altre opere meriterebbero di essere conosciute. A titolo esemplificativo ricordiamo soltanto le città invisibili. Il racconto visionario di Marco Polo, all'imperatore dei Tartari, ci dice che le città sono un luogo di incontro, di vita, di scambio di merci e di ricordi. Un racconto che fa pensare, talvolta con incredibile preveggenza. Ad esempio, la città di Leonia, parto della fantasia di Marco Polo Calvino nel lontano 1972, sembra descrivere e prefigurare con impressionante anticipo la situazione attuale di molte, anzi di tutte le città, alle prese con il problema dei rifiuti e di un'economia circolare che tarda ad arrivare. Per i valori di umanità, libertà, rispetto della natura, coraggio ed etica della responsabilità, di cui sono stati, in campi diversi, i testimoni fratelli Calvino, liguri di origine e di adozione, l'Equistituto Reggio Emilia e Genova si è intitolato ad essi. Il loro esempio e il loro insegnamento continuano oggi ad esistere e a indirizzare quanti oggi si impegnano per un corretto rapporto dell'uomo con la biosfera. Con modestia, ma con impegno e con coerenza, noi dell'Equistituto cerchiamo di essere degni di tale insegnamento. Adesso vi leggerò Leonia e con questo poi terminerò il mio intervento. Leonia è una delle città invisibili. La città di Leonia rifà se stessa tutti i giorni. Ogni mattina la popolazione si risveglia tra lenzuola fresche, si lava con saponette appena sgusciate dall'involucro, indossa vestaglie nuove fiammanti, estrae dal più perfezionato frigorifero barattoli di latta ancora intonsi, ascoltando le ultime filastrocche dall'ultimo modello d'apparecchio. Sui marciapiedi, avviluppati in tersi sacchi di plastica, i resti di Leonia di ieri aspettano il carro dello spazzaturaio. Non solo i tubi di dentifricio schiacciati, lampadine fulminate, giornali, contenitori, materiali di imballaggio, ma anche scaldabagne, enciclopedie, pianoforti, servizi di porcellana. Più che dalle cose che ogni giorno vengono fabbricate, vendute, comprate, l'opulenza di Leonia si misura dalle cose che ogni giorno vengono buttate via per far posto alle nuove. tanto che ci si chiede se la vera passione di Leonia sia davvero, come dicono, il godere delle cose nuove e diverse o non piuttosto l'espellere, l'allontanare da sé, il mondarsi da una ricorrente impurità. Certo è che gli spazzaturai sono accolti come angeli e il loro compito di rimuovere i resti dell'esistenza di ieri è circondato da un rispetto silenzioso, come un rito che ispira devozione o forse solo perché una volta buttata via la roba nessuno vuole più averci da pensare. Dove portino ogni giorno il loro carico, gli spazzaturai, nessuno se lo chiede. Fuori dalla città, certo, ma ogni anno la città si espande e gli mondezai devono arretrare più lontano. L'imponenza del gettito aumenta e le catastre si innalzano, si stratificano, si dispiegano su un perimetro più vasto. Aggiungi che più l'arte di Leonia eccelle nel fabbricare nuovi materiali, più la spazzatura migliora la sua sostanza, resiste al tempo, alle interperie, a fermentazioni e combustioni. È una fortezza di rimasugli indistruttibili che circonda Leonia, la sovrasta da ogni lato, come un acrocoro di montagne. Il risultato è questo. Che più Leonia espelle roba, più ne accumula. Le squame del suo passato si saldano in una corazza che non si può togliere. Rinnovandosi ogni giorno, la città conserva tutta se stessa nella sola forma definitiva, quella delle spazzature di ieri che si ammucchiano sulle spazzature dell'altro ieri e di tutti i suoi giorni e anni e lustri. Il pattume di Leonia poco a poco invaderebbe il mondo se sullo sterminato i mondezzaio non stessero premendo. Al di là dell'estremo crinale, i mondezzai d' altre città che anch'esse respingono lontano da sé le montagne di rifiuti. Forse il mondo intero, oltre i confini di Leonia, è ricoperto da crateri di spazzatura, ognuno con al centro una metropoli in eruzione, ininterrotta. I confini tra le città estranee e nemiche sono bastioni infetti in cui i detriti dell'una e dell'altra si puntellano a vicenda, si sovrastano, si mescolano. Più ne cresce l'altezza, più incombe il pericolo delle frane. Basta che un barattolo, un vecchio pneumatico, un fiasco spagliato, rotoli dalla parte di Leonia e una valanga di scarpe spaiate, calendari d'anni trascorsi, fiori secchi, sommergerà la città nel proprio passato, che in vano tentava di respingere, mescolato con quello delle altre città limitrofe e finalmente monde. Un cataclisma spianerà la sordita catena montosa, cancellerà ogni traccia dalle metropoli, sempre vestita a nuovo. Già dalle città vicine sono pronti con i rulli compressori per spianare il suolo, estendersi nel nuovo territorio e ingrandire se stesse, allontanare i nuovi mondezai. E qui finisce Calvino e finisce anche il mio intervento. Grazie. Grazie Gianfranco. Ho visto che hai già fatto tu una grande disamina su tutti e due i personaggi, soprattutto anche di Italo Calvino, per cui abbiamo invitato Laura Guglielmi, che è una giornalista che ha fatto anche dei saggi su Calvino, poi lei è una profonda conoscitrice. Penso che ci faccia conoscere Calvino con degli approfondimenti anche un po' diversi. Lei mi diceva, che appunto ricordava Gianfranco, la sua impronta anche ambientalista, e mi diceva che Calvino ha molti aspetti anche sull'ambiente e lei lo riporta anche nel suo saggio su Calvino e la città di Sanremo. Lei, tra parentesi, è San Remasca e quindi ha un'ulteriore conoscenza su Calvino. A tale proposito io l'ho invitata a portare anche dei suoi libri, perché lei come scrittrice ha fatto diversi libri e io gli ho detto, guarda, portali volentieri, perché si prestano i tuoi libri a essere anche delle estrenne natalizie e quindi avete l'opportunità anche qui per scegliere eventualmente di fare un regalo. Questi libri, almeno come lo vedo io, si prestano. Non so se li hai portati tutti, Laura, gli ultimi tre e che sono molto interessanti. Ora, Gianfranco ci ha già letto una grossa parte, cioè l'aspetto delle città invisibili, la città di Leonia. Ora non so se passare la parola per non fare leggere di nuovo, passare subito a Laura Guglielmi che ci racconterà Italo Calvino con degli approfondimenti anche con... Allora passo la parola adesso a Laura Guglielmi. Buonasera, sono particolarmente contenta di essere qui stasera per questo istituto di cui non conoscevo l'esistenza, la mia ignoranza è grande, ci sono sempre moltissime lacune da colmare, ma la cosa che più mi ha entusiasmato di questa iniziativa è che proprio Massimo Quaini ha deciso, pensato, proposto come capo del Comitato Scientifico stasera, ma già lo sapevo insomma, mi sono documentata sull'istituto prima di venire, ha suggerito di intitolare questa associazione a Italo e Floriano Calvino. Ecco, io voglio dire una cosa, questo libro qua, l'ultimo che è uscito quest'anno per il centenario, Italo Calvino e Sanremo, alla ricerca di una città scomparsa, deve molto a Massimo Quaini. Quindi i suoi insegnamenti sono alla base di tutte le ricerche, o tante delle ricerche che io ho fatto sul territorio Ligure. Non solo i miei scritti, i miei interventi giornalistici, i miei saggi, ma anche gli ultimi tre libri sono dedicati alla Liguria. Sono andato a scovare ciò di internazionale che esiste in Liguria, però l'impronta è sempre quella che mi ha dato lui. andare alla ricerca dei luoghi, tirare fuori le piccole storie che poi sono grandi storie, perché dalla carta geografica non si vede veramente un territorio. Per vedere il territorio, per capirlo e comprenderlo, bisogna andarci, bisogna percorrerlo. E così anche lui ha sempre usato lo strumento della letteratura, per analizzare il territorio, per la sua vita da studioso e da geografo. Ecco io, in maniera molto originale, per dire rispetto ai miei colleghi all'università, io mi sono laureata in lingue, dando una tesi con Massimo Quaini come relatore, quindi è stato anche il docente col quale mi sono laureata. Però appunto ha scritto tantissimi testi sulla letteratura da Liguria, e la letteratura, e gli scrittori, e soprattutto su Italo Calvino. Quindi sono contenta che in qualche modo si continui a ricordare questa sua figura. Allora, Italo Calvino, Italo Calvino ecosostenibile, Italo Calvino mi hanno chiamato anche gli istituti italiani di cultura all'estero a presentare questo libro, perché quest'anno si parlava appunto di ecosostenibilità. Come dire? Allora, cominciamo da Mario Calvino, il papà, un soggetto estremamente originale, non posso raccontare tutto quello che ha combinato nella vita, che è interessantissimo, nel libro c'è, perché sennò porterei via troppo tempo e fare un intervento anche troppo lungo. Però Mario Calvino era stato un pioniere della floricoltura. Poi per una serie di motivi è dovuto scappare in Messico, scappare per modo di dire nel senso che aveva prestato il suo passaporto a un anarchico antizarista russo, un astronomo, che non poteva tornare in patria, e lui gli ha prestato il passaporto, così è tornato in patria, in Russia, per poter poi, insomma, continuare a lottare contro lo zar. E però quando è stato arrestato e condannato a morte, questo signore di cui non mi ricordo il nome in russo, gli hanno trovato il passaporto di Mario Calvino. E allora un po' i servizi segreti italiani e quelli russi hanno cominciato a, stiamo parlando ancora dell'Ottocento, a fargli qualche domanda, e lui ne ha approfittato perché ha preso, l'ambasciatore del Messico a Washington, gli ha proposto di andare a lavorare in Messico, lui non se l'ha fatto dire due volte. Era già molto affermato come agronomo, è nato nel 1875, e lì è andato in, insomma, a una delle sue fissazioni, era insegnare ai peones, ai contadini, come avere una vita più dignitosa, ed era già un precoce sostenitore dell'eco, della biodiversità. Era contro la monocultura della canna da zucchero quando poi è andato a Cuba, perché a Cuba è diventato direttore della stazione sperimentale per l'agricoltura. E poi, e poi, insomma, come ha cominciato un rapporto epistolare con questa studiosa, che si chiamava Eva Mameli, l'unica diplomata, nata nel 1888, l'unica diplomata, donna diplomata, nel liceo di, nelle scuole superiori di Sassari, che ha frequentato, la prima a laurearsi in scienza naturale in Italia, la prima a ottenere una cattedra di botanica, e che avevano interessi comuni con Mario Calvino, ma avevano un rapporto accademico di tipo, voglio dire, istituzionale, accademico. E però lui, quando viene in Italia nel 1920, fa una serie di annotazioni, di cose che deve da fare, e tra cui ci sono due cose importantissime. Va a Pavia, dove Eva si era trasferita, viveva con la mamma, viveva col fratello Ifisio, di 15 anni più grande, e la mamma, Cubeddu, va a chiamarla, appena Mario Calvino vedeva, Evelina, avrei voluto tanto tempo per conoscerla meglio di persona, ma purtroppo devo rientrare a Cuba di corsa. Io voglio chiederle due cose. Può venire a Cuba a dirigere la sezione botanica della stazione per l'agricoltura che io sto dirigendo a Santiago de Las Vegas? E poi secondo, mi sposa? Eva! Ho già i due biglietti, la prego, però io devo scappare, quindi un biglietto glielo lascio a lei e parte quando vuole. Lo so, ci sposiamo per procura, però poi dopo festeggiamo a Cuba le nostre nozze. Eva cosa fa? Guarda la mamma, guarda il fratello, l'avevano sempre lasciata fare quello che voleva e dice, sì, va bene, vengo, vado, sì, che bello. Insomma, era già fermata, non aveva bisogno, aveva già 35 anni, aveva già successi. E niente, quindi prende, lui parte, e lei va a Cuba da sola, va a fronte, al viaggio da sola, con questo biglietto che lui le lascia. Sposandosi per procura, prima Pavia però, perché erano due tipi abbastanza strani e voglio dire avanti, però una donna non sposata non è che potesse andare, questo me lo invento io. Poi, se no, doveva per forza essere sposata. E poi, stando lì, passano anni felici, anche lei diventa molto, dalla parte dei contadini, insegnare, cercare che ottenessero tantissime cose che, insomma, in Latina America si sa i peones che vita hanno fatto. In Uruguay, da poco, il Mujica aveva fatto delle leggi, ma esistevano ancora le leggi di due, trecento anni fa sugli stipendi delle ama, dei casas e dei peones, dei contadini e delle donne di servizio, vicino alla schiavitù, insomma. E niente, quindi, una coppia originalissima, insomma. Eva, nonostante sia, rimanga incinta, a 37 anni, affronta un viaggio per il Brasile, per andare a fare delle ricerche, poi va anche, viene invitata anche nel Bronx, a New York, dove c'è un orto botanico dedicato alle piante tropicali e diventa sempre più, insomma, la pancia cresce e cresce e torna a Cuba esattamente pochi giorni prima per il 15 ottobre del 1923, cent'anni fa, dare alla luce Italo Calvino in una capanna sepolta in mezzo alla foresta tropicale. Ecco, questo è l'ambiente, è l'humus in cui sono cresciuti i fratelli Calvino. sono ritornati quando Italo Calvino aveva un anno e mezzo a Sanremo, hanno fondato l'istituto sperimentale per la floricoltura, i genitori e dato che è fallita la banca con l'ascito di Orazio Raimondo che era stato un grande sindaco socialista di Sanremo, fallisco, 20 milioni non ci sono più e allora Mario Calvino mette a disposizione la sua villa per gli uffici dell'istituto sperimentale e Calvino cresce in quest'ambiente Italo e i Calvino crescono in quest'ambiente e allora nella narrativa di Calvino Leonia è un pezzo stupendo insomma, queste città già allora aveva questa sensibilità di queste città che si moltiplicano attraverso la propria spazzatura che non si sa più dove raccoglierla nella Pubella Greca è un racconto che ha scritto quando stava a Parigi lui era dato che era un po' imbranato Italo Calvino nelle cose manuali allora la mamma e la figlia lo relegavano al compito di portare via sempre la spazzatura fuori casa e già lui poi quando andava a fare la spesa gli facevano la lista perché sennò non sapeva mai non portava mai a casa le cose giuste cose che le faceva anche la mamma e le mamme tutte le devi prendere quando andava a fare le commissioni a Sanremo e come scrive lui e parla già di riciclo dei rifiuti parla già ha già dei concetti quel racconto che l'ha scritto voglio dire negli anni settanta che nessuno ci pensava ancora queste cose o giusto voglio dire gli scienziati il barone rampante abbiamo parlato prima è un breviario di botanica io questo l'ho scritto nel libro è un elenco ci sono tutte le piante dell'entrotare a Ligure e poi quando sono andata adesso a Roma dovete andare assolutamente a vedere la mostra alle scuderie del Quirinale su Italo Calvino è bellissima ma c'è anche una piccola mostra preziosa alla Biblioteca Nazionale dove c'è anche la stanza Calvino che la figlia Giovanna ha dato incomodato tutti i libri e le librerie che c'erano nella casa di Roma in Piazza Campo Marzio ed è tutta ricostruita alla Biblioteca Nazionale per il centenario hanno fatto una piccola mostra e c'è la prima edizione del barone del rampante che Italo dedica alla mamma a mamma Eva questo libro botanico quindi lui aveva coscienza aveva coscienza che fosse un libro con un grosso imprinting dei genitori perché qual era stato il più grande cruccio di Mario Calvino che i figli non hanno voluto seguire la sua professione di agronomo o quello della madre di botanica uno Italo Calvino voleva diventare giornalista e scrittore e l'altro invece che stare con la natura le piante i sassi le pietre la geologia ci saranno molti geologi però è buffo che abbia fatto questa scelta è sempre qualcosa che ha a che fare con la natura però non proprio quello che avrebbe voluto Mario Calvino Mario Calvino gli ultimi anni della sua vita era un po' disperato perché allora c'era Villa Meridiana con questo bellissimo parco dove la mamma era la regina etichettava le piante lavorava continuamente al laboratorio nel laboratorio c'è una foto emblematica dove c'è Eva che guarda al microscopio la natura le varie sezioni delle piante e Italo dietro che guarda l'obiettivo la mamma è impegnata a prendere appunti su quello che vede e da lì si vede la grande ossessione che aveva Italo Calvino per catalogare il mondo e le sue componenti perché le città invisibili non hanno un altro che elenco di oggetti messi insieme per formare delle città il barone rampante è un elenco continuo delle piante e anche delle varie forme del vivere in mezzo alla natura e la strada di San Giovanni che racconto dove parla del papà è un elenco di tutto quello che vedeva Sanremo da Villa Meridiana e quindi Italo Calvino aveva molto sofferto per come era stata devastata Sanremo dalla speculazione di Lizia che tanto che ci ha scritto un romanzo intitolato proprio la speculazione di Lizia un romanzo doloroso per cui lui aveva avuto un rapporto doloroso con la sua città perché lui poi se ne è andato via e non è più ritornato a viverci è andato a Torino dove è andato a lavorare la casa editrice in Audi poi è andato a Parigi dove ha conosciuto Cicita ha messo al mondo sua figlia Giovanna poi è andato a vivere a Roma e la casa delle vacanze l'ha comprata in Maremma a Castiglione della Pescaia però è rimasto sempre fortemente legato a Sanremo sempre e questo lo dice in un'intervista poco prima di morire Sanremo continua sempre a saltar fuori nei miei libri in ogni scorcio e prospettiva sempre vista dall'alto ed è presente in molte delle città invisibili ma chi l'avrebbe mai detto che in queste città così astratte e alcide filosofiche ci fosse Sanremo dietro mentre le scriveva l'ha detto nell'85 poco prima di morire e avrei tantissime altre cose da dire perché sulla natura su ecco forse la cosa che posso fare dicevo Mario Calvino era molto costernato perché lui era stato un pioniere della floricoltura però tutta Sanremo già negli anni 30 era soggetta alla monocultura del garofano avevano abbattuto limoneti aranceti olivi secolari per mettere garofani ovunque che Mario Calvino odiava come il figlio Italo e e allora perché dato che aveva una stazione sperimentale così bella un parco meraviglioso che arrivava fin quasi giù a piazza colombo grandissimo perché doveva andare tutti i giorni all'orto di San Giovanni e costringere i figli ad andare a raccogliere le ceste di frutta e di verdura d'estate li svegliava andava a fare rumore buttava giù dal letto voleva che Italo e Floriano andassero su fino all'orto di San Giovanni d'estate mezz'ora in salita tutti i giorni dice scrive Calvino nel racconto la strada di San Giovanni io avrei preferito andare al mare a vedere le ragazzine sui pedalò con le braccia lisce dice anche e lui invece no però che cosa metteva Mario Calvino in questo accanimento per questo orto tutta questa frutta e verdura che non serviva a nessuno era troppo per rifare il bisogno familiare Eva che era ordinata quando vedeva il marito i figli arrivare con tutte queste ceste di frutta e di verdura non perché lei si curasse della cucina la sua vita era in laboratorio aveva tutto il personale che insomma però insomma lei odiava lo spreco vedeva tutta quella roba c'era un fabbisogno il fabbisogno era molto inferiore e invece quindi Mario Calvino all'orto di San Giovanni voleva sperimentare tutte quelle tecniche agricole tradizionali con la sapienza moderna ovvero a lui contemporanea e non aveva potuto fare i suoi cittadini l'avevano ascoltato solo per far quattrini avevano ridotto il territorio come abbiamo detto alla monocultura del Garofano non era questo quello che aveva auspicato lui e quindi soffriva molto e quindi andava all'orto dove applicava tutti i suoi metodi e cosa ci dice Italo Calvino in quel racconto rivelatorio che è la strada di San Giovanni che cosa stavo cercando anch'io se non la stessa strada di mio padre scavata nel fondo di un'altra estraneità che sarebbe stata la pagina lo schermo del cinematografo c'è questa frase bellissima per quanto riguarda il territorio e secondo me appunto di fronte alla natura restavo indifferente riservato a tratti ostile scrive Italo Calvino e non sapevo che stavo anch'io cercando un rapporto forse più fortunato di quello di mio padre un rapporto che sarebbe stata la letteratura a darmi restituendo il significato a tutto ed un tratto ogni cosa sarebbe divenuta vera e tangibile e possedibile e perfetta ogni cosa di quel mondo ormai perduto allora dov'è dov'è Sanremo Sanremo è scomparsa hanno abbattuto gli alberi hanno costruito palazzoni inguardabili e dov'è Sanremo la Sanremo che Mario Calvino non è riuscito a salvare quel paesaggio e quel territorio stupendo uno dei più belli del Mediterraneo alla fine dell'Ottocento dov'è e nei testi di Calvino di Italo Calvino a salvare lui stesso in questa frase si propone di salvare quello che il territorio il paesaggio attraverso la scrittura quindi è un testamento emotivo molto forte che lui ci lascia quindi leggendo il barone rampante uno ritrova quel paesaggio una frase che sempre mi commuove come lui andasse all'orto fosse e poi come avesse imparato come una spugna da mamma e papà tutti i nomi delle piante tutto quello che gli insegnavano ma non ha voluto fare lo stesso mestiere e per fortuna forse in questo caso perché ci ha lasciato un grande patrimonio letterario concludo dicendo questo forse sono già le sei e mezza e concludo casomai riprendo dopo se siete interessati e poi tutte le cose sono anche in questo mio testo che è uscito quest'anno per il centenario e Eva Mameli è stata così importante per i due figli questa è una lettura di tipo psicoanalitico forse anche un po' però vi leggo le date allora Eva è morta nel mi son presa nel 1978 aveva più di 90 anni Italo nel 1985 sette anni dopo aveva 61 anni Floriano nel 1988 dieci anni dopo la mamma aveva 60 anni il papà aveva vissuto 75 anni secondo me c'era un legame tra questi due figli e questa madre così autorevole questa madre così fondamentale una madre diversa dalla madre di tutti i loro compagni una madre che è stata lei a dire voi dovete andare a fare la resistenza perché dobbiamo liberarci dall'oppressore è stata lei lo scrive Italo Calvino nell'autobiografia nella sua autobiografia politica una madre che di un rigore incredibile e ha detto che non voleva l'hanno scritta alla scuola valdese poi a liceo l'hanno esonerato da religione in pieno fascismo e lui stava stava fuori dalla porta qualche compagno passava Calvino cosa fai lì? ma io non ascolto religione non sto nell'ora di religione ma ecco è vero sei un calvinista tu sei proprio così lui lo scrive e quando poi in futuro la gente gli chiedeva ma questo fatto che è riescluso da tutti questi voglio dire ritmi scolastici non è che ti ha fatto del male poi nel crescere e lui risponde gli ha sempre risposto no bisogna sempre sentirsi un po' diversi per qualcosa è bello guardare le cose da un punto di vista che non sia quello collettivo insomma Eva Mameli è stato un grande personaggio e adesso finalmente lo stanno riscoprendo io volevo scrivere un libro su di lei però poi è uscito uno da electa da poco quindi magari fra un po' lo scriverò un libro su Eva Mameli quindi insomma ringrazio Massimo Quaini di aver avuto questa geniali idea di dedicare questo istituto a Italo e Floriano non poteva avere un'idea migliore e probabilmente altrimenti se no neanche oggi io sarei qua brava brava Laura devo dirti che mi hai fatto comuovere anche a me per il tuo come si chiama la tua passione di come hai descritto la famiglia Calvino a questo punto facciamo continuare facciamo diamo la parola a Costanza Matteini che ci leggerà un altro pezzo degli scritti a proposito anche Floriano poi ha avuto a che fare con la scrittura perché lui ha collaborato con il secolo quindi non so quanti articoli ha scritto però si è cimentato anche lui con la scrittura quindi tutti e due si può dire che abbiano avuto l'aspetto della penna come comuni è stato scoperto da poco l'istituto sperimentale per la floricultura adesso che è in corso inglese hanno scoperto adesso un registro della varietà delle piante che Eva Mameli ha compilato in 30 anni di lavoro tutto a mano senza un graffietto senza una cancellatura una precisione le rose i garofani tutte le piante che venivano ibridate per 30 anni è una cosa di un prezioso incredibile perché ci racconta come i figli e poi abbiano avuto entrambi un forte rigore scientifico ha applicato tutte le dottrine tutte le teorie scientifiche Italo Calvino ai suoi romanzi di continuo ha cercato solo in tutta la sua vita di scrivere sempre un romanzo diverso se me lo ecco così così un po' più lungo un po' più lungo buonasera allora intanto volevo dire che Calvino dice a ragazzi io sono un ex insegnante quindi non posso fare altro che anche parlare di scuola dice a dei ragazzi di Pesaro poco prima di andarsene evidentemente gli chiedono come è arrivato a essere scrittore e lui dice scrivo perché non ero dotato per il commercio non ero dotato per lo sport infatti per un periodo lui fa anche il giornalista sportivo ma poi rinuncia non ero dotato per tante altre cose era un poco quello che per usare una frase famosa l'idiota della famiglia e quindi si è messo a scrivere ecco questo è uno poi a proposito delle città invisibili ho letto in un articolo del 2002 che Fuxas che è quell'architetto famoso Massimiliano Fuxas ha dichiarato che Calvino negli anni 70 era diventato una specie di manuale per gli architetti perché con un punto le sue città invisibili ha dato evidentemente la sua fantasia ha fatto risvegliato la fantasia di alcuni architetti io vi leggerei ora una città ne ha scritti nel libro appunto le città invisibili sono 56 più altre una decina di cui parla con il Gran Can quindi sono solo citate ma di queste 56 città ecco ci vuole una fantasia esagerata perché non ce n'è uno uguale all'altra effettivamente e anche i nomi i nomi sono veramente non posso ricordarmeli tutti ma ve ne leggo qualcuno Diomira Isidora Dorotea Zaira Anastasia Melania Smeraldina Fillide Pirra Adelma cioè tutti un nome diverso dall'altro ma stranissimi anche alcuni noti altri molto meno noti ora vi leggo la città Armilla se Armilla sia così perché incompiuta o perché demolita se ci sia dentro un incantesimo o solo un capriccio io lo ignoro fatto sta che non ha muri né soffitti né pavimenti mi viene in mente quella canzone senza soffitto senza non ha nulla che la faccia sembrare una città eccetto le tubature dell'acqua che salgono verticali dove dovrebbero esserci le case e si diramano dove dovrebbero esserci i piani una foresta di tubi che finiscono i rubiletti docce sifoni troppo piedi contro il cielo biancheggia qualche lavabo o vasca da bagno o altra maiolica come frutti tardivi o rimasti appesi ai rami si direbbe che gli idraulici abbiano compiuto il loro lavoro e se ne siano andati prima dell'arrivo dei muratori oppure che i loro impianti indistruttibili abbiano resistito a una catastrofe terremoto o corrosione di termiti abbandonata prima o dopo essere stata abitata Armilla non può dirsi deserta a qualsiasi ora alzando gli occhi tra le tubature non è raro scorgere una o molti giovani donne snelle non alte di statura che si crogiolano nelle vasche da bagno che si inarcano sotto le docce sospese sul vuoto che fanno abruzioni o che si asciugano o che si profumano o che si pettinano i lunghi capelli allo specchio nel sole brillano i fili d'acqua sventagliati dalle docce i getti dei rubiletti gli zampigli gli schizzi la schiuma delle spugne la spiegazione di cui sono arrivata è questa nei corsi d'acqua incanalati nelle tubature d'Armilla sono rimaste padrone linfe e naia di abituata a risalire le vene sotterranee è stato loro facile inoltrarsi nel nuovo regno acquatico sgorgare da fonti moltiplicate trovare nuovi specchi nuovi giochi nuovi modi di godere dell'acqua può darsi che la loro invasione abbia scacciato gli uomini o può darsi che Armilla sia stata costruita dagli uomini come un dono votivo per ringraziarsi le linfe offese per la manomissione delle acque comunque adesso sembrano contente queste donnine al mattino si sentono cantare questa Armilla grazie costanza ora vado a memoria dovrebbe essere come relatori Andrea Cevasco e Luciano e allora passerai la parola Andrea Cevasco però mi aveva detto che si collegava eccoci buonasera buonasera a tutti mi sentite si si benissimo allora Andrea tu ci parli come geologo insieme a Luciano Minetti ci parli della figura di Floriano no? sì e vi parlo brevemente vi parlo molto brevemente innanzitutto un saluto a tutti e mi spiace molto non poter essere lì con voi questa sera ma da questa mattina sono a un'indisposizione che non mi consente di essere anche questa mattina abbiamo avuto un ho dovuto rinunciare a un'altra presentazione in presenza proprio a causa di questo problema in ogni caso ecco io faccio apro brevemente per lasciare poi la parola al dottor Luciano Minetti collega che tra l'altro è amico e che voglio anche cogliere questa occasione per salutare per ringraziarvi innanzitutto di avermi diciamo contattato per portare un ricordo di Floriano Calvino o meglio di quello che io ho sempre chiamato professor Calvino e l'ho sempre identificato col nome professor Calvino io non ho avuto personalmente la fortuna di conoscerlo e so di per certo che è stato l'ultimo professore ordinario che ha avuto la materia che insegno che è la geologia applicata all'università di Genova il suo nome io l'ho conosciuto quando nei primi anni 90 poco dopo la sua morte ero studente di scienze geologiche a Genova e ho studiato come tanti geologi come la maggior parte dei geologi liguri sugli appunti che erano dattilografati e venivano messi a disposizione degli studenti per sostenere l'esame del corso di geologia applicato che a quel tempo era tenuto dal professor Sandro Nosengo che è stato suo allievo e successore nonché amico di Massimo Quaini è stato proprio grazie alla disponibilità del professor Nosengo che io mi sono avvicinato alla geologia applicata con lui ho fatto dapprima il dottorato di ricerca tra il 98 e il 2000 e poi con lui ho collaborato come neoricercatore sempre all'università a Genova fino al 2006 quando è prematuramente scomparso però in quegli anni ho avuto in tante occasioni la possibilità di entrare in contatto indirettamente ovviamente con il professor Calvino perché il suo nome emergeva spessissimo nei racconti del professor Nosengo che si riferivano in particolare alle vicissitudini vissute dal professor Calvino dal suo arrivo all'università di Genova alla vicenda del Vajont che aveva affrontato in precedenza e del disastro di Stava in cui lo stesso Nosengo aveva collaborato appunto con Calvino io sono sempre rimasto colpito dall'enorme ammirazione e stima che il professor Nosengo nutriva nei confronti del suo maestro e del quale spesso faceva trappelare le doti di competenza di lealtà di coraggio di fermezza e quindi è come un po' che anche io per osmosi ho sempre avuto la sensazione di averlo un po' conosciuto e nel 2006 quando purtroppo ci fu la morte improvvida del professor Nosengo quando mi sono trovato come ricercatore unico rappresentante della giorgia applicata presso il dipartimento che allora si chiamava dello studio del territorio e delle sue risorse ho usato ancora sono tornato ad usare gli appunti di geologia applicata del professor Calvino sui quali avevo studiato in precedenza e li usai proprio come traccia di base per ricostruire i corsi di geologia applicata per gli studenti dell'Università di Genova e volevo dire ancora due cose molto veloci la stanza in cui lavoro oggi all'Università è la stessa in cui approdai nel 1998 cercando un tutore per svolgere la tesi di dottorato che trovai allora nel professor Nosengo e che era stata occupata però in precedenza anche dal professor Calvino io ho trovato molto materiale bibliografico documentazione tecnica relazioni professionali del professor Calvino che ho sempre custodito con estremo affetto e cura e negli anni in senso di rispetto ho avuto anche volutamente mantenuto la struttura dell'ufficio inalterata e tutto ciò mi aiuta forse nell'attività quotidiana a mantenere quella direzione molto netta tracciata dai miei illustri predecessori ai miei studenti per chiudere nell'introduzione al corso di geologia applicata che tengo ormai dal 2006 all'università esprimo sempre un concetto molto importante per chi opera nella geologia applicata appunto in qualità di professionista concetto che scrisse il professor Nosengo allievo lo ripeto del professor Calvino che credo avrebbe condiviso questo concetto è un concetto che riguarda la responsabilità di un geologo applicato libero professionista che scriveva Nosengo si esercita anche nell'indicare con chiarezza alla committenza gli aspetti negativi di un progetto e nel rifiutare con fermezza di porre in gioco la propria capacità per realizzare cose men che limpide vi ringrazio per l'attenzione grazie Andrea Cevasco grazie della bella testimonianza che ci hai fornito del tuo continuo lavoro su sulle orme proprio di Calvino grazie adesso darei la parola a Luciano Minetti ah sì prima di dare la parola a Luciano Minetti diamo di nuovo una breve lettura altra città è Bauchi dopo aver marciato sette giorni attraverso Boscaglie chi va a Bauchi non riesce a vederla ed è arrivato i sottili trampoli che si alzano dal suolo a gran distanza l'uno dall'altro e si perdono sopra le nubi sostengono la città ci si sale con scalette a terra gli abitanti si mostrano di rado hanno già tutto lo corrente lassù e preferiscono non scendere nulla della città tocca al suolo tranne quelle lunghe gambe da fenicottero a cui si appoggia e nelle giornate luminose un'ombra traforata e angolosa che si disegna sul fogliame tre ipotesi si danno sugli abitanti di Bauchi che odino la terra che la rispettino al punto di evitare ogni contatto che l'aminò come era prima di loro e con canocchiali e telescopi puntati in giù non si stanchino di passarle in rassegna foglia a foglia sasso a sasso formica per formica contemplando affascinanti la propria assenza grazie 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 costanza adesso diamo la parola a Luciano Minetti che è stato conoscitore anche di di Floriano mi sedo buonasera a tutti allora io ho avuto il privilegio di lavorare con Calvino con il professor Calvino per dieci anni cioè abbiamo fatto tantissime cose insieme posso dire che da come l'ho conosciuto io lui era diciamo per ripercorrere le cose dette del fratello era comunque molto rispettoso di quello che era l'ambiente praticamente con lui è cominciata l'avventura della mia vita perché in pratica mi ha aperto mi ha dato la possibilità con la tesi per cominciare sulla prima diga la diga di Goronio che è una diga in Nigeria dopo quella abbiamo seguito messo a terra almeno una ventina di dighe e di queste costruite cinque per cui vi dico un grandissimo impegno da parte sua e una grande partecipazione da parte mia che sono partito con una valigetta di plastica e da da quello che mi ha insegnato lui specialmente poi tutto tutto quello che ho fatto dopo è nato da quello che lui mi ha insegnato cioè di vedere il territorio nella maniera più ampia possibile nella realtà il mettere a terra una diga vuol dire scegliere su un territorio il posto dove farlo vi assicuro che non è una cosa facile specialmente adesso abbiamo dei mezzi formidabili allora non c'erano noi mettevamo addirittura delle pietre bianche intorno al contorno dell'invaso per vedere come sarebbe stata messa avevamo mezzi tempo e quattrini perché interessava sia i paesi che erano poi diciamo gli utilizzatori sia delle grandi società l'uomo era non aveva un carattere facile il professor Galvino tanto che io diciamo a diversità di altri per quello che riguardava riguardava il lavoro non non parlavo scrivevo perché lui preferiva avere delle note scritte anche se poi non era così semplice su tutti gli aspetti che partivano dal momento iniziale fino all'inizio della diga pensate che noi a quei tempi partivamo per la Nigeria dove non c'era nemmeno un chiodo riempivamo le navi di materiale per poter fare le indagini per cui arrivavano a Lagos per esempio facevano migliaia di chilometri su strade impossibili attraversando e io mi occupavo anche di queste cose di fatto lui mi diceva che soprattutto a quei tempi era un buon autista da Bush e praticamente sapevo portare macchine e tutto quello che serviva nei posti e vi assicuro che tutte le volte che cominciava l'avventura nella mia testa era difficile pensare di arrivare fino in fondo perché io parlo dighe da un miliardo di metri cubi d'acqua o da due o da tre per cui erano tutte grosse opere io vi posso parlare le avventure fatte insieme sono formidabili io vi dico questo è successo in Nigeria poi è successo in Etiopia è successo in Indonesia abbiamo visitato tanti paesi insieme vi posso Calvino aveva una dirittura morale che delle volte ci ha portato persino in condizioni non facilissime perché mi ricordo che vi posso dire per esempio sul confine tra l'Etiopia e la Somalia lavoravamo con le Nazioni Unite in quel tempo e le dighe le abbiamo fatte non è che le abbiamo solamente diciamo così immaginate e poi diciamo progettate le abbiamo fatte insieme ai cinesi ai cubani e ai russi su territorio etiope sul confine con la io trovavo maree di scarpe lungo questo cammino e se trovavi le scarpe vuol dire che avevano portato via i morti per cui pensate che abbiamo rischiato anche parecchio è uno dei rischi più tangibili ce l'abbiamo avuto una sera con Calvino perché siamo finiti in uno di questi ristoranti così si può dire che erano molto simili ai saloon del far west dove c'era di tutto c'era anche diciamo la parte c'era lo spettacolo si mangiava e poi c'era 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 proprio tutto non vi dico cosa comunque mi ricordo che una sera intorno a un tavolo dove c'era un colonnello russo c'erano alcuni miliziani etiopi Calvino dopo un bel numero di bicchieri di vodka si decise a dire che i russi erano i nuovi colonialisti io sono arrivato al punto che avevo paura che gli sparassero l'abbiamo preso sotto le ascelle e l'abbiamo portato via io e Pergano che era un carissimo collega socio e diciamo tante avventure in Nigeria siamo finiti in un fiume allora questo in Etiopia era nell'86 due anni prima che morisse mentre invece in Nigeria eravamo intorno all'81-82 in Nigeria sull'altopiano di Joss vi dico io ho detto 15 ma erano di più le diche che abbiamo visto insieme sull'altipiano di Joss a circa 2000 metri siamo passati in un fiume dove era piovuto e lui mi diceva ma passa che ci si è imprepassato siamo finiti nel fiume e ci ha portato via praticamente siamo rimasti Calvino avevamo per fortuna una campagnola telonata per cui era facile uscire io sono uscito per ultimo perché era la guida accanto a me solo che c'era Calvino con un ingegnere seduti dietro un ingegnere che non sapeva nuotare ha preso a calci Calvino per uscire Calvino era pieno di ematomi perché però sono riuscito ad uscire io sono uscito per ultimo mi sono aggrappato degli alberi abbiamo fatto 25 km a piedi di notte praticamente in questo altipiano poi finalmente abbiamo trovato una macchina gli ho dato 300 dollari a uno perché ci portasse nel posto giusto e tutte queste cose qui noi non ci siamo mai stancati di farle tanto che mi ha fatto amare talmente questa questa professione che io a 76 anni continuo è stata e vi dico l'avventura della mia vita perché poi mi ha aperto io ho fatto il consulente per la banca mondiale per 20 anni dietro proprio questa spinta sua di conoscere nuovi territori di avere attenzione a quello che riguarda io ho visto in tutto 120 dighe nella mia vita per cui sono stato in Tibet in Kyrgyzstan in Indonesia in Indonesia con Calvino abbiamo fatto lo studio di un tunnel il tunnel del Singarac abbiamo dormito lui non tanto ma io 120 notti nella giungla di Sumatra per cui abbiamo fatto veramente di tutto abbiamo smontato le macchine per portarle oltre i fiumi dove non c'erano ponti tutto questo indietro pensate che in particolare questa avventura in Indonesia i giapponesi si erano rifiutati di fare il progetto per la presenza di Wild Animals perché c'erano i tigri cioè non è non è proprio e noi invece sulla sua spinta bisogno anche di lavorare erano momenti non facilissimi abbiamo portato le macchine a spalle perché gli elicotteri non ci arrivavano perché avevamo degli alberi troppo alti avremmo dovuto tagliare chissà cosa per cui è stata proprio la volontà di fare era effettivamente di tutte e due perché lui mi diceva lo vuoi fare facciamolo ci siamo dati sempre del legge non è che nonostante dieci anni c'erano vent'anni differenza tra me e Calvino era un grande fumatore questo che l'ha portato alla tomba perché io mi ricordo che dormivamo insieme lui di notte si accendeva le Celtic che erano era paglia messa dentro la cartina diciamo attorno a sole perché facevano però lui da quel punto di vista lì era era il fumatore d'eccellenza e io mi ricordo incontri comunque vi dico ho imparato anche lui mi diceva non farmi mai domande davanti a tutti quanti perché io ti devo rispondere e quando dico una cosa io non posso cambiarla cioè non lo sforzavo mai a darmi dei pareri a dire delle cose lo facevamo poi in Camera Caritatis dove discutevamo molto perché vi dico la verità che lui diciamo io preferivo scrivere però quando veniva il momento del confronto apprezzava il fatto che io ero un'altra voce del coro abbiamo fatto pozzi fino a 800 metri per cercare l'acqua in diciamo al confine con Niger l'abbiamo trovata cioè mi diceva non aver paura delle cose falle e questo è stato il leitmotiv della sua vita per quanto diciamo così purtroppo è mancato presto e a noi ci è mancato molto perché io quando lui è morto ho detto non so cosa farò dopo poi invece si sono aperte tante strade abbiamo fatto tante cose io conosco tanti di voi ci sono persone che collaborano con me lavoriamo insieme mi ha fatto su questa volontà per esempio l'ultima avventura in Oman 38 dighi che abbiamo messo a terra e questo solo per il fatto che lui mi ha insegnato come farlo cioè diciamo il rispetto della natura era proprio in questo senso perché nella diga nonostante sia ci siano tanti detrattori pensavamo io e lui lo pensavamo con certezza che da un punto di vista diciamo così generale fossero apportassero dei vantaggi e questo probabilmente è stato ma aveva detto che è stato cattivo due volte nella sua vita per il problema del Vaillant e poi per il problema del professor Conti all'università di Genova lui l'aveva denunciato per cui e lui ha patito sempre per queste cose perché ha perso Cappadova ma poi doveva andare a Roma ad insegnare e gli hanno tirato la Sara Ginesca giù perché nessuno sapete cane non mangia cane di conseguenza il fatto di avere questo aspetto un po' rivoluzionario nelle sue cose l'ha pagato caro però è sempre andato con la fronte alta aveva una bella fronte spaziosa lucida per cui diciamo io vi dico la verità non mi commuovo perché non posso farlo ho visto l'età e tutto il resto però vi posso dire che in tutto quello che ho fatto in questi anni quando dovevo prendere qualche decisione pensavo come l'avrebbe pensata lui dove far passare una strada dove mettere un ponte dove far passare una galleria sono cose che sono nate dal suo insegnamento testimonio che Calvino non era un grande insegnante non gli piaceva insegnare ve lo dico ma nella verità l'ho letto nei suoi occhi l'ho letto nella sua vita probabilmente per rapporti personali ma lui era un vero professionista cioè era la persona che come dicevamo prima non si sarebbe mai messo diciamo non ha mai voluto sposare guardate che in Etiopia nel Tanabelis noi c'eravamo rifiutati di andare perché avrebbero dovuto spostare circa 65.000 persone per cui queste estromissioni lui non le condivideva poi diciamo così siamo andati invece per fare altre cose dove abbiamo fatto delle dighe piccole a servizio della popolazione e queste funzionano perché sono ancora lì ogni tanto con i nuovi mezzi mi vado a vedere le dighe che abbiamo visto ci sono vanno avanti e mi ha aperto perché poi io sono stato in Vietnam ho lavorato con la banca mondiale per 20 anni questa cosa è nata con una visione che lui mi ha dato non erano gli insegnamenti del libro o degli appunti era l'insegnamento di una visione generale del nostro mestiere cioè guardare le cose con una visione ampia e lui è stato capace a darlo ho paura di dilungarmi troppo comunque questo è grande ricordo persona eccezionale se n'è andato troppo presto perché effettivamente c'era ancora tante cose da fare sì sì io non ho avuto la fortuna non parlava molto di suo fratello non abbiamo parlato pochissimo niente perché lui era una persona molto discreta però guardi io sono un figlio di un bottegaio il Calvino invece abbiamo sentito parlare dei suoi genitori però diciamo tra noi c'era un rapporto tale che ha aperto questo colloquio di lavoro ma poi anche di vita io l'ho trovato io me lo ricordo che avvino in mutande in mezzo a un fiume col figlio in Nigeria perché gli era si era spaccata la macchina e l'abbiamo tirati via mi ricordo di lui che piegava in casa perché io andavo a casa conoscevo la moglie e i figli in casa che piegava la bandiera del Sampdoria il bandierone insieme al figlio cioè aveva una vita mi diceva che per far partorire la moglie l'aveva messa sulla Dian o sulla due cavalli e la portava in giro a scossoni cioè era un uomo con il quale il colloquio non era facilissimo ma c'era sempre lui ecco finisco lì perché non vorrei poi esagerare grazie il geologo Luciano grazie ha un'altra bellissima testimonianza e adesso di nuovo una breve lettura altra città Smeraldina io mi chiederei mi chiederei anche a proposito di del fratello di Italo cosa ne penserebbe delle ponte sullo stretto ecco per esempio questa è una cosa che mi così mi è venuta se non parlate al microfono noi non sentiamo scusate vi dico diciamo così il pensiero di Calvino certamente per quello che riguarda le opere io per esempio ho partecipato allo studio del tunnel sotto diciamo così tra Scille e Cariddi in poche parole che era un'alternativa però quando c'è stata l'uccisione di Falcone le grandi esplosioni hanno deciso che non si sarebbe fatto il tunnel perché era troppo pericoloso nella realtà era più difficoltoso però Calvino vedeva meglio sicuramente una soluzione del genere perché era meno impattante anche se avrebbe avuto delle diciamo difficoltà realizzative importanti come vi dico le grandi opere sono attrattive Calvino per quello che riguarda il il ponte di Messina soprattutto da un punto di vista diciamo così non degli aspetti economico-politici che sono fondamentali perché alla base di tutto c'è sempre la sostenibilità socio-economica delle cose cosa che era la base di tutti gli studi che facevamo noi perché poi noi dovevamo scontrarci con le capacità diciamo di progettare ma soprattutto che la progettazione avesse poi diciamo così un risvolto di certamente di ritorno abbiamo sbagliato perché io vi dico le grandi dighe in Nigeria per esempio la diga di Bacolori con cui abbiamo aveva 80.000 ettari di irrigazione per cui non so la pianura padana siamo sulle grandi dimensioni non ha mai funzionato niente perché erano diciamo così irrigazioni a scorrimento noi non non abbiamo percepito e vi dico io sono andato a lavare diciamo così panninarno perché poi dopo queste gronde opere che mi sono accorto non sarebbero servite poi sono andato a lavorare diciamo con la FAO e con la Banca Mondiale e il mio apporto ho cominciato a costruire piccole dighe in Niger ne avevano fatto di piccole ne avevano fatto 60-70 e la mia grande soddisfazione è stata che quando dopo 20 anni qualcuno è andato a chiedere lì come andavano bene e gli hanno detto chi 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 vi ha insegnato a fare ma abbiamo imparato da soli era stata la più grande soddisfazione perché gli era entrato talmente abbiamo fatto dei vasi da fiori perché era meglio coltivare dentro la diga che fuori si insultavano davano la controsagione la gente che dei poveretti che si mangiavano le ginocchia per stare vivi praticamente avevano a disposizione queste questa cosa qua io l'ho pensata e non ero un visionario mi veniva in mente quello che mi diceva Calvino diceva una diga dura 40 anni la sua però poi vi dico abbiamo lavorato per le grosse opere e ce la lavoro ancora adesso io perché per esempio mi occupo delle dighe qui sulle nostre alture ma ne abbiamo fatto lavori ho lavorato alla diga di Tarbela che è stata una delle più grosse in Chirighi stanno andando a vedere la riparazione e tutte le volte che pensavo a qualcosa da suggerire passava per il pensiero di Calvino nel senso di dire se facciamo le cose devono essere sostenibili se no non facciamole per quello che riguarda il ponte di bisognerebbe sentire lui è difficile però diciamo che vi posso dire attratti dalle grandi opere ma a lui sarebbe andato più bene il tunnel che perché da un punto di vista lui aveva anche questo aspetto estetico delle opere le voleva fare in un modo che fossero diciamo gradevoli in qualche modo e le grosse opere non lo sono quasi mai per cui non so credo che avrebbe voluto che fosse connesso la Sicilia al continente però nella maniera diciamo meno impattante e meno visibile grazie sperando che non ci fossero dei terremoti poi però perché il problema lì della zona penso che sia quello allora torniamo alle nostre città a Smeraldina a Smeraldina città acquatica un reticolo di canali e un reticolo di strade si sovrappongano e si intersecano per andare da un posto a un altro hai sempre la scelta tra il percorso terrestre e quello in barca e poiché la linea più breve tra due punti a Smeraldina non è una retta ma uno zig zag che si ramifica in tortuose varianti le vie che si aprono a ogni passante non sono soltanto due ma molte e ancora aumentano per chi alterna traghetti in barca e tra sbordi all'asciutto così la noia a percorrere ogni giorno le stesse strade è risparmiata agli abitanti di Smeraldina e non è tutto la rete dei passaggi non è disposta su un solo strato ma segue un saliscendi di scalette ballattoi ponti a schiena d'asino vie pensili combinando segmenti dei diversi tragitti sopraelevati o in superficie a ogni abitante si dà ogni giorno lo svago ad un nuovo itinerario per andare negli stessi luoghi le vite più abitudinarie e tranquille a Smeraldina trascorrono senza ripetersi a maggiori costrizioni sono esposte qui come altrove le vite segrete avventurose i gatti di Smeraldina i ladri gli amanti clandestini si spostano per vie più alte e discontinue saltando da un tetto all'altro calandosi da un'altana a un verone contornando Gorondaie con passo da funamboli più in basso i topi corrono nel buio delle cloache l'uno dietro la coda dell'altro insieme ai congiurati e ai contrabandieri fanno capolino da tombini e da chiavi che svicolano per intercapedine chiassuoli trascinano da una scondiglia all'altro closte di formaggio mercanzie proibite e barili di polvere da sparo attraversano la compattezza della città traforata dalla raggera dei conicoli sotterranei una mappa di mesmeraldina dovrebbe comprendere segnali segnati in inchiostri di diverse colore tutti questi tracciati solidi e liquidi palesi e nascosti più difficile fissare sulla carta le vie delle rondini che tagliano l'aria sopra i tetti calano lungo le parabole invisibili a dali ferme scartano per inghiottire una zanzara risalgono a spirale rasendo un binacolo sovrastano da ogni punto dei loro sentieri d'aria a tutti i punti della città siamo giusti nei tempi e a questo punto dovrei dare la parola alla coordinatrice Pinuccia Montanari che sarebbero la parte di Reggio Emilia dell'Ecoistituto quindi do la parola adesso a Pinuccia il mio è esclusivamente appunto un saluto nel senso che quando diciamo noi ci fu questa proposta molto interessante di dedicare il nostro Ecoistituto a Italo e Floriano Calvino noi accogliemmo appunto questa proposta con grandissimo naturalmente interesse sia per la figura appunto di Italo Calvino che da noi era più conosciuta ma anche appunto per la curiosità e la necessità anche di così conoscere meglio la figura di Floriano Calvino e devo dire che la serata di stasera ha restituito a noi come potevamo anche immaginare sapendo da chi veniva la proposta cioè il professor Quaini che questi temi così importanti per il Ecoistituto che sono appunto la questione della biodiversità la tutela del territorio la salvaguardia appunto del nostro territorio ma anche la conoscenza del paesaggio sono appunto questioni per noi assolutamente centrali e allora io appunto mi limito da Reggio Emilia a portare i saluti e lo volevo fare ricordando due libri di un nostro amico appunto di Reggio Emilia Reggiano che è Marco Belpoliti che è stato un nostro diciamo compagno non solo di studi ma anche di approfondimenti e forse se abbiamo pensato all'Ecoistituto perché partecipiamo appunto anche con lui alle conferenze così importanti nel nostro territorio che erano quelle soprattutto appunto del centro del centro culturale San Carlo di Modena da cui un po' abbiamo copiato come metodo Marco ha scritto due bellissimi libri proprio su Caldino e ci tenevo a ricordarli perché appunto lui è Reggiano e un testo è Caldino dalla dall'Ala Z che raccoglie 146 voci affidate a 56 autori e che toccano quelle tematiche che voi avete così sapientemente a cui ci avete introdotto in modo così sapiente dal cinema alla fotografia appunto al paesaggio l'altro libro molto interessante che volevo citare è quello sempre di Marco che è L'occhio di Caldino e che mi ha colpito sempre questo testo perché ci racconta un po' il punto di vista di Caldino che è quello appunto dell'immagine l'istanza visiva di Caldino dice appunto Marco Belpoliti implica prima di tutto la presenza di qualcosa di non razionale che si chiama appunto immaginazione questo aspetto per me è molto interessante perché l'immagine appunto funziona come motore d'avvio alla narrazione con le sue componenti appunto intuitive come avete voi ben dimostrato tra l'altro appunto dove la letteratura si incrocia con la vita e quindi è anche molto affascinante proprio questo questa modalità di avvicinarci a questi due autori autori e pensatori e anche persone che hanno agito poi dicevo appunto componenti intuitivi irrazionali logiche che implicano immediatamente dopo la presenza di una logica che scandagli l'interno dell'immagine stessa per dare forma appunto ad una storia ma quello che ci interessa anche come è costituto è appunto è questo sguardo lo sguardo lo stupore la meraviglia che aprono alla riflessione e alla meditazione e allora sempre appunto da questi libri trago questa frase appunto di Italo Calvino dice l'unica cosa che vorrei insegnare è un modo di guardare cioè di essere al mondo io insomma quello a cui io tendo l'unica cosa che vorrei poter insegnare è un modo di guardare cioè di essere in mezzo al mondo in fondo la letteratura non può insegnare altro ecco però questa capacità di guardare al mondo credo che sia quello anche che dovrebbe un po' caratterizzare come abbiamo fatto anche con i nostri quaderni di Ecoistituto dovrebbe caratterizzare la nostra azione noi cerchiamo appunto di scrutare quelli che sono le complessità appunto del mondo cerchiamo di scrutare quelli che sono gli aspetti problematici di analizzarli e tra l'altro le tematiche che noi affrontiamo che sono anche nello statuto appunto dell'Ecoistituto sono quelle che voi avete citato appunto dall'economia circolare quindi la città di Leone al tema dei rifiuti alla questione appunto della tutela del paesaggio del verde della biodiversità ecco ma è la profondità dello sguardo di Italo Calvino che e credo anche questo approccio così rigoroso e scientifico di Floriano Calvino che secondo me ci possono appunto aiutare a fare con serietà questo lavoro nostro che ci siamo assunti creando appunto questo Ecoistituto che lavora tra Reggio e Genova io proprio mi fermo qui perché non volevo dire altro se non portare appunto i saluti anche della parte reggiana e ci sono due domande una l'avevo fatta io se chi ha fatto poi la prima invece la vuole come diceva Cristo ve lo vuole porre io chiedevo al professor Minetti se conosci il progetto della Diga di Vetto in provincia di Reggio Emilia perché è anche probabile che come Ecoistituto noi ci dovremmo pronunciare noi anni fa ci pronunciamo in modo diciamo negativo nel senso che a nostro avviso appunto a parte che mancava la valutazione di impatto ambientale ma quando ci fu anche da parte del Ministero dell'Ambiente la valutazione di impatto ambientale a nostro avviso c'erano grossi problemi legati proprio alla tutela della biodiversità però un suo sguardo da persona esperta e con questa sensibilità ci piacerebbe appunto proprio così proprio ci piacerebbe così avere una sua una sua opinione l'altro intervento invece non so se Cristo lo ha fatto Turipalida che se vuole magari intervenire così spiega che comunque se no lo leggo il dottor Minetti ha scritto un'auto sua autobiografia un racconto delle sue straordinarie esperienze di vita se sì ci può dare il titolo e l'editore grazie non ho capito io personalmente no guardi mi sono sempre pentito di non averlo fatto ma guardi ho veramente vi assicuro che sarebbe bastato un diario una cosa attraverso i libri cioè tutte le cose che ho scritto ho scritto solo dei libri tecnici ho scritto un manuale per le dighe per esempio per la banca mondiale però è una cosa che interessa solamente a qualcuno poi l'ho scritto nell'anima che lo potessero usare i miei più cari amici africani per cui proprio nella maniera applicativa la più sensibile comunque io ho scritto solo cose tecniche molto modeste ma direi di no io non la conosco sinceramente se mi volete dare qualche indicazione forse posso dare qualche qualche mia considerazione purtroppo da un punto di vista ambientale ci sono cose che stridono con questo tipo di opere quasi sempre perché si prende qualcosa e si rinuncia a molte altre per cui abbiamo avuto dei dibattiti formidabili guardi io vi posso dire che in Georgia sono stato diciamo nell'ex repubblica una dei diciamo così delle che faceva parte della Russia siamo stati aggrediti da alcuni ambientalisti e io mi sono dovuto difendere perché dovevamo fare una diga e capita spesso che si debba fare una considerazione agro-socio-economica reale non è sempre così facile le valutazioni di impatto ambientale in Italia sono fatte abbastanza bene io sono il sensore di alcune valutazioni nazionali e devo dire che c'è attenzione noi le dico addirittura quando facciamo una riparazione una diga mettiamo diciamo così in casse di dimensioni enormi tutti i pesci cioè c'è una grande noi abbiamo da discutere con i pescatori è una cosa giustissima però diamo da bere anche 220 mila genovesi che non è un'altra cosa per cui ci sono ci sono delle e vi posso dire che le dighe del gorzente non è per difendere ma effettivamente un po' devo farlo perché ci ho vissuto di queste cose le dighe del gorzente che si chiamano ormai i laghi del gorzente sono il punto centrale diciamo così di questo parco nazionale che il parco delle capanne di Marcarolo e queste zone umide io per esempio alla coda delle dighe faccio sempre una zona umida cioè metto dei gabbioni i tecnici li conoscono forse altri no praticamente facciamo una piccola diga che raccolga il materiale tale per dare agio a tutta la fauna presente di poter utilizzare perché la diga è difficile come utilizzo facciamo addirittura le zattere perché i pesci ci possono andare sotto per i chirotteri mettiamo tutti i nidi per poter per cui c'è un'attenzione che vi dico non è tutto a parte farina del mio sacco sono queste dighe dove si fanno giusto appunto dei vasi di fiori estesi dove c'è una vita notevolissima di tipo ambientale per altre cose capisco che lo è di meno e comunque ci confrontiamo tanto per la parte forestale per la parte diciamo così agricola senz'altro e per la parte riguardante diciamo l'ambiente in generale io sono un grande fautore di minimizzare i trasporti per esempio che non è una cosa da poco nelle costruzioni di dighe le cose importanti sono i transitori nel momento in cui la fa poi quando c'è se ha fatto le cose bene le cose potrebbero andare anche meglio ecco questo è il mio pensiero generale da buon tecnico non vi posso bisogna vedere diciamo così il progetto se volete io uno sguardo posso anche darlo se può servire volentieri grazie 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 Pinuccia per i saluti da Reggio Emilia salutiamo tutti e grazie per questo bel evento che speriamo possa trovarci di nuovo protagonisti in qualche altro come ecco istituto Reggio Emilia e Genova grazie 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 arrivederci